Gentili telespettatori, buona giornata. Vogliamo sistemare la sanità? Il ministro dice esami e visite anche sabato e domenica. Sarebbe il decreto legge anti liste d'attesa. Caro il mio ministro, io ho capito che non ci sono soldi per assumere medici e infermieri, però la soluzione non può essere fare lavorare quelli che ci sono di sabato e domenica. Sì vabbè è volontario, chi vuole può lavorare il sabato e la domenica. Intanto far lavorare una persona sette giorni su sette, anche volontariamente non va bene, perché una persona poi stanca non riesce a rendere come dovrebbe, quindi è anti proprio le normali leggi sul lavoro, non puoi dire, ah ma volontariamente se vuoi lavorare anche il sabato e domenica sette giorni su sette lo puoi fare. È grazie al cavolo, ma non va bene, non va bene. Quindi per risolvere le liste d'attesa, al posto che lavorare cinque giorni su sette, se facciamo sette su sette, le liste d'attesa diminuiscono. È grazie al cavolo. Ma non è questa una soluzione, caro il mio ministro, bisogna assumere più medici. Dice i soldi dove li trovi? Ci sono mille miliardi di spesa, lo sapete che l'Italia spende mille miliardi all'anno? E non mi trovate i soldi lì? Ah perché lì ci sono le lobby che non si toccano, voi sapete che dentro quei mille miliardi ci sono cose intoccabili che nessuno ha mai toccato. Secondo me su mille miliardi di spesa, non volete trovare dei soldi per assumere i medici? Io direi che volendo si possono trovare. La soluzione visite sabato e domenica mi sembra un po' così, un po' raffazzonato. Visite diagnostiche specialistiche anche di sabato e domenica, con l'estinzione della fascia oraria per l'erogazione di queste prestazioni. Quindi non c'è più la fascia oraria, li puoi fare anche il mercoledì sera a mezzanotte, non so, oppure ti hanno dato la visita il giovedì alle 4 del mattino. Ho capito, ma se i medici sono sempre gli stessi, come funziona sta roba? Mi sembra un'assurdità. Sistema unico di prenotazione regionale o infraregionale con le strutture private accreditate. Quindi non puoi nel pubblico impiego, allora te la faccio fare nel privato, io come stato pago, la puoi fare il sabato o la domenica, se nel privato non hanno tempo magari te la fanno fare il giovedì notte. Le prenotazioni dovranno essere sul centro unico di prenotazione CUP, pena la nullità degli accordi contrattuali per l'accreditamento con il sistema sanitario nazionale, un sistema di recall attivo del CUP per ricordare l'assistito, la data di erogazione della prestazione per richiedere la conferma o per cancellare le prenotazioni. In caso di mancata presentazione o visita non annullata, l'assistito può essere tenuto a pagare lo stesso. Quindi se tu poi prenoti una visita che poi lo Stato dovrà pagare allo specialista e tu non ci vai, allora te la faccio pagare a te. Queste alcune delle misure previste dalla bozza del decreto legge del Ministro Orazio Schillacci della Salute per la riduzione delle liste d'attesa, circa 25 articoli eccetera eccetera. Quindi per implementare l'efficacia del coordinamento di livello nazionale per la riduzione e il superamento delle liste d'attesa, con particolare riguardo alla risoluzione delle disuguaglianze regionali e del fenomeno della mobilità attiva e passiva, si sottolinea nella bozza il sistema nazionale di governo delle liste d'attesa, quale insieme delle strutture eccetera eccetera sarà governato da una cabina di regia presso il Ministero della Salute, il Ministro che sovraintende alle elaborazioni di questo piano eccetera eccetera. Allora, questa è una soluzione. Il provvedimento prevede tempi certi per le prestazioni, una carta diritti dei cittadini, un aumento del tetto della spesa per il personale, una stretta per i gettonisti con i nuovi contratti. Dice il Ministro, credo che il governo debba far sì e lo faremo con il provvedimento sulle liste d'attesa che i cittadini riescano finalmente a fare gli esami e le terapie di cui hanno bisogno nei tempi previsti e che nessuno rimanga indietro soprattutto a Napoli, al sud. Dice Schillaci, alla domanda dei cronisti se si siano in programma delle misure particolari stiamo ancora lavorando. Allora, questa è una soluzione che poi non credo che andrà a risolvere il problema delle liste d'attesa, non credo che con questo decreto vi mettono la visita per il giorno dopo. Ci sarà una riduzione delle liste d'attesa, se adesso per un esame ti dicono fra un anno e mezzo magari ti dicono fra un anno, perché se ne fai il sabato e la domenica due giorni in più su cinque vuol dire che c'è un aumento del 35, c'è una diminuzione del 35% delle liste d'attesa, del tempo di attesa, una diminuzione del 35% su un anno e mezzo vuol dire che al posto che un anno e mezzo te la danno fra un anno. Insomma, al posto che dartela fra nove mesi te la daranno fra sei mesi. La visita non arriva il giorno dopo, quindi vuol dire che questa non è una soluzione, ma è un modo per tamponare e ridurre un po' la lista d'attesa. Ma se voi andate a chiedere una visita e vi dicono guarda che non è più fra un anno e mezzo, è fra un anno, sei contento? Dici ma io la visita l'ho bisogno adesso, immediatamente, perché ho un problema. Scusi eh, al posto che un anno e mezzo è un anno dovrebbe essere contento. contento, non la vedo contento, non la vedo gioire. E quindi poi sei costretto comunque ad andare, se puoi, dal privato, se no non ti curi. Ecco. Il problema per risolvere questo, visto che è una popolazione sempre più anziana, è quello di avere molti, molti più medici. Vuol dire che se le liste d'attesa sono a un anno e mezzo, a un anno, a sei mesi, devi raddoppiare o triplicare il personale addetto a queste cose. non ci sono i soldi? Eh, si vede che il sistema sanitario nazionale deve avere dei problemi di vario tipo se non si riesce a prenotare una visita, dovreste prenotarla al massimo per la settimana successiva. se tu hai un problema serio, la visita te la do domani, dopo domani, massimo lunedì prossimo, massimo sette giorni per avere una visita, massimo. Questa dovrebbe essere la legge. Massimo entro cinque giorni lavorativi devi avere la visita. Non si può? Vuol dire che c'è un problema che va affrontato senza far lavorare la gente il sabato e domenica, perché così metti lo scotch sul buco. Arrivederci a tutti e grazie.